Allora, buongiorno, sono Gabriele Filippini e da più di 30 anni mi occupo di discipline provenienti dall'estremo oriente e in particolare dalla Cina. Il mio interesse per queste discipline, per questo settore, è nato dalle arti marziali che ho iniziato a praticare in età molto giovanile, circa 13-14 anni, e ho avuto la fortuna di incontrare alcuni buoni maestri che fin da subito mi hanno parlato della filosofia con essere arti marziali e anche dell'aspetto energetico delle arti marziali. E da questo, molto naturalmente, è nato il mio interesse per lo studio della medicina tradizionale cinese. E questo perché volevo capire come funzionava il corpo secondo questo modello particolare di cui i miei maestri cinesi mi parlavano. Inizialmente mi sono rivolto, perché allora in Italia era sostanzialmente l'unica disciplina praticata o quasi, mi sono rivolto allo shiatsu e dopo alcuni anni ho preso la decisione di occuparmi professionalmente di queste discipline. Questa decisione è stata presa per un motivo essenzialmente pratico, e cioè mi rendevo conto che la materia è così complessa e difficile che praticarla semplicemente come hobby non mi avrebbe mai consentito di comprenderla veramente al livello che io ritenevo opportuno. E quindi dedicando la mia attività professionale esclusivamente a queste attività ho avuto modo di approfondirle in maniera più soddisfacente. Uno dei passi fondamentali della mia preparazione è stato recarmi a Shanghai per un breve periodo dove mi sono diplomato in Tui Na, cioè in massaggio tradizionale cinese, presso una delle università di questa città, una università dedicata esclusivamente allo studio della medicina tradizionale cinese. Non dimentichiamo infatti che nel paese d'origine la medicina tradizionale cinese è correntemente utilizzata negli ospedali e studiata nell'università. Ma il Tui Na che cos'è? Il Tui Na è un tipo di massaggio tradizionale cinese che ha lo scopo specifico di agire sull'energia interna. Per noi in Europa e soprattutto in Italia molto spesso medicina cinese è uguale agopuntura. In realtà nel paese d'origine non è così perché la medicina tradizionale cinese è un corpus teorico applicato a diversi strumenti di intervento, in particolare il massaggio tradizionale cinese, l'agopuntura, l'erboristeria e tutte le tecniche fisiche, le ginnastiche fisiche e energetiche che sono tipiche di questo paese. E quindi la mia preparazione da quel momento in poi si è sviluppata da un lato sull'approfondimento delle tecniche pratiche del Tui Na. Il Tui Na è una tecnica molto complessa, questo massaggio tradizionale cinese infatti consta di decine e decine di manipolazioni corporee diverse che devono essere conosciute molto bene. In seguito dopo il mio ritorno in Italia ho avuto la fortuna di conoscere alcuni docenti molto importanti della medicina tradizionale cinese europea e in particolare in Italia il dottor Maurizio Corradin e in seguito il dottor Carlo di Stanislao che dopo tutti questi anni è tuttora il mio insegnante perché davvero questa è una materia in cui non finiremo mai di studiare. Accanto a questo ho cominciato in quegli anni a praticare le arti marziali interne, quindi sono passato da stili orientati più prettamente al combattimento invece all'aspetto più connesso allo studio, all'incremento dell'energia interna e in particolare mi sono diplomato in Tai Chi Chuan e nello stile Yi Chuan e anche in Qigong. Per Qigong ricordiamo che intendiamo tutti gli esercizi cinesi volti all'incremento e al mantenimento, allo sviluppo, riequilibrio dell'energia interna. Sia il Tai Chi Chuan che il Qigong condividono un'impostazione di base all'interno della quale ci sono alcuni aspetti realmente importanti da sviluppare, che sono una particolare cura per la respirazione, una particolare cura per i movimenti e per le posture del corpo e una particolare cura per quello che è lo sviluppo dell'intenzione, cioè la capacità di guidare la propria energia verso il raggiungimento di obiettivi. Perché tutto questo è così importante e così connesso col Tui Na, perché in questo modo l'operatore può sviluppare uno stato di salute che è in grado di trasmettere ai suoi clienti. Ora sono moltissimi anni che mi occupo di questo lavoro e accanto al lavoro di intervento diretto, quindi sono un operatore di medicina tradizionale cinese di Tui Na, sono anche insegnante, dal 2000 sono direttore dell'associazione Wu Wei, scuola di Tui Na e Qigong e negli anni abbiamo diplomato centinaia e centinaia di allievi che attualmente operano in Italia nell'ambito di queste discipline. E quindi posso dire che l'integrazione di questi aspetti, quindi lo studio della medicina tradizionale cinese, lo sviluppo di abilità manuali e l'incremento della propria energia interna, negli anni mi hanno consentito di sviluppare una professione estremamente soddisfacente e con grandi risultati per i nostri clienti. Vi ringrazio per l'attenzione.